Però vado avanti così vediamo se vi do le risposte. Prende posizione a marzo del 2023 il Copyright Office americano, perché iniziavano ad arrivare richieste di registrazione di copyright, cioè di deposito, perché tu il copyright ce l'è lo stesso, però puoi chiedere al Copyright Office di prendere in deposito per darti una prova. E loro dicono no, non prendiamo in deposito opere che risultano come creazioni di intelligenza artificiale. Attenzione che non è la stessa cosa da dire che non c'è copyright sull'intelligenza artificiale, su tutto ciò che è creato con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché alcuni autori cercavano di indicare come coautore il software. Perché? Perché lì era un cortocircuito per cui in un certo posto, in certi punti dei termini d'uso dei sistemi tipo OpenAI, ti dicono, c'è scritto che devi dichiarare che hai fatto quella cosa con l'intelligenza artificiale, quindi di fatto è un po' tuo coautore. Però se tu lo metti come coautore in senso proprio, crei un cortocircuito perché il Copyright Office ti dice, ma no, non puoi mettermi come coautore un software, perché un software non è un essere umano, non è un coautore, quindi cortocircuito. E se c'è un essere umano che ha controllato, io sono del parere che comunque quella roba lì è ancora tutelata in quanto opera dell'essere umano. Se la domanda poi è quanto c'è davvero dell'essere umano e quanto è della macchina, lì purtroppo bisogna andare caso per caso, quindi la risposta diventa, dipende, la risposta che noi giuristi amiamo molto dare, e che sarà, ve lo anticipo, sarà la conclusione del mio seminario. Quindi se qualcuno sta aspettando, finalmente li prendi fra 20 slides, ci dirà come finisce, no. Sappiate che la fine è, dipende, quindi se volete spegnere, potete spegnere già adesso. Ad ogni modo, cosa succede? On March 10, 2023, the US Copyright Office published a document that seeks to clarify the possibility of protecting with copyright wars created using generative AI systems. It actually tells us things that we already knew, cioè ci ha detto cose che in realtà sapevamo già, and that we could still deduce from the general principle of copyright, cioè quindi cose che potremmo già dedurre dagli principi generali. Cioè che secondo il Copyright Office, according to the Copyright Office, AI systems are a mere tool in the hands of human beings, cioè per loro, ok, hai fatto qualcosa con l'intelligenza artificiale, ma l'hai fatta tu, cioè sei stato tu a schiacciare i bottoni, allora se sei stato tu, per noi sei tu l'autore, questo è il concetto. Ok, perché se no si crea un altro cortocircuito, cioè che allora anche quelli che facevano le cose con i software di grafica 3D, dieci anni fa non erano autori, perché? Eh, perché in realtà una parte l'ha fatto i filtri che avevano preinstallato nel software, perché sono, e no, perché lì c'era un essere umano, degli esseri umani che stavano lavorando su qualcosa di creativo, perché se cominciamo ad andare a ritroso in questo senso, torniamo a togliere il diritto a Saroni sulla foto, perché la foto l'ha fatta la macchina fotografica, e non Saroni, ok? But it is still an important milestone, cioè anche se questo documento del Copyright Office, che diciamo non si è sporcato tanto le mani, se ne è un po' lavato, ha detto. Io ribadisco un concetto, non prendiamo opere che hanno come autore indicato un software, perché non ha senso, non possiamo indicare come autore una macchina o un software. Prendiamo opere che sono, se sono fatte con l'intelligenza artificiale, vuol dire che colui che la deposita, si dichiara autore, lui sarà l'autore perché ha guidato il processo, quindi per me, Copyright Office americano, l'intelligenza artificiale rimane ad oggi uno strumento in mano degli esseri umani, non qualcosa che abbia una sua autonomia, perché se no, ripeto, scoppia tutto, cioè diventa un cortocircuito non da poco, salvo arrivare a quegli esempi che abbiamo visto prima del supervised, che ho chiamato, diciamo, supervised or not supervised. Però comunque è una maestrone importante, perché ha fatto un po' di chiarezza. Quindi, in un'ottica di, no, questo riprende un po' l'esempio che ho fatto prima delle auto a guida autonoma, is a mere question of responsibility, perché se voi andate a leggere la bozza, the draft of the EU regulation, cioè la bozza su il regolamento dell'intelligenza artificiale, di cui si sta parlando da mesi e non è ancora arrivato a bozza definitiva, tutto sembra ricondotto da una questione di responsabilità. Cioè quello a cui tiene l'Unione Europea non è tanto definire chi è creativo, ma definire chi ha responsabilità su cosa. Ed è comprensibile, perché anche sul discorso della profilazione, della privacy che abbiamo detto prima, effettivamente è delicata la questione, no? Oppure l'esempio degli attori che, i deep fake, queste cose qua, che perdono controllo sulla loro immagine, però non ci dà risposte, cioè purtroppo la bozza di questo regolamento non ci dà molte risposte a questi dubbi, dice solamente che la mette su un piano della trasparenza, cioè devi dichiarare, uno, cioè se sei titolare del prodotto, diciamo del sistema di intelligenza artificiale, cioè sei OpenAI o qualcun altro, o stable diffusion o maggiore, devi dichiarare in modo trasparente quali database, che cosa hai utilizzato per addestrare. Quindi se hai utilizzato opere creative, di tizio, di caio, devi dichiararlo, il che, anche quello è un bel casino, perché inizieranno a venire fuori, i nodi a venire al pettine, cioè che questi hanno utilizzato roba che non si poteva in realtà utilizzare, perché l'hanno presa dalla rete o dai social, e quindi cominciano a tornare indietro e dire no ma aspetta, sta cosa no, non l'abbiamo fatta. Ed è un casino, sì, però il test data mining lo puoi fare se a scopo di ricerca scientifica, cioè ci sono una serie di, no attenzione, fair use però è americano, qua stiamo parlando del diritto europeo, infatti, buona parte dei sistemi di intelligenza artificiale si sciacqueranno, passate la metà, si sciacqueranno di questo regolamento, perché sono tutti, sottoposti quasi tutti, ai regolamenti americani, loro quella roba lì l'hanno già fatta, l'hanno fatta facendo leva sul fair use, come dici tu, americano, che quella roba lì la lascia fare, come era stato il dibattito all'epoca di Google che faceva coi libri, digitalizzava tutto, lì uguale, Google ha detto che cacchio volete, fair use, in America in effetti ha avuto ragione, alla fine ha avuto un po' ragione, in Europa noi ragioniamo in modo diverso, e quindi, però se tu sei un europeo e sviluppi un sistema di intelligenza artificiale qua, hai molte più scocciature, Sì, no, il fair use non esiste, noi abbiamo quella cosa lì al posto, il fair use, che si chiamano casi di libero utilizzo, eccezione al diritto d'autore, e funzionano in modo diverso, perché? Perché il fair use tu puoi spingerlo oltre, perché la tecnologia è andata oltre, quindi tu adatti il concetto di fair use, che negli anni si è sviluppato, e i giudici ti seguono, noi abbiamo una norma che dice, devi stare entro questo solco, e se tu vai a leggere questa norma del test datamining, non è che ti dà tutta questa libertà, no, il test datamining è del 2019, ma non c'è, non esiste, cioè noi non abbiamo un fair use, è proprio sbagliato parlare di fair use in Italia, perché il fair use è un istituto giuridico americano, e il, non c'è, non c'è, è una leggenda, fidati, la legge del 41, è quella di cui ti sto parlando io, perché è stata aggiornata poi con la direttiva del 2019, non ha una norma, non è stata soppresa, l'uso didattico, ah beh, l'uso didattico non esiste dal 2003, c'è l'articolo 70 che dice, la famosa quella delle immagini a uso didattico scientifico, ma non c'è un, su quella cosa lì, tu devi andare articolo per articolo, e l'articolo di cui stiamo parlando è il 70 ter, ti garantisco che è un solco abbastanza delimitato, quello del test datamining in cui ti puoi muovere, e quindi adesso un'entità che sia no profit o profit, che vuole mettere in piedi un sistema di intelligenza artificiale, lo deve fare entro quei confini lì, e se sei no profit hai un po' di libertà, perché sei un ente di ricerca, lo fai ai sensi dell'articolo 70 ter, se sei un ente profit, non hai neanche quello, e quindi hai davvero le mani un po' legate, però ripeto, buona parte dei sistemi che noi stiamo utilizzando vengono dall'oltreoceano, e quindi loro, del nostro bel regolamento europeo, se ne sciacquano abbastanza. Comunque, arrivando in conclusione, vedete, vuole chiarire che scusate, non si occupa molto di questo aspetto della creatività, dell'originalità, ma più l'aspetto della responsabilità, cioè chi è responsabile delle cose fatte with or by AI systems, quindi con o da sistema di intelligenza artificiale, con, esatto, questa ulteriore precisazione per cui adesso dovremmo essere più trasparenti, quindi l'utente che utilizza, lo studente che utilizza il sistema di intelligenza artificiale per fare la tesi in due giorni invece che in tre mesi, in teoria lo dovrebbe dire, e quindi lì siamo su un piano, come dico qua, forse più della trasparenza, rather of transparency and intellectual honesty, cioè onestà intellettuale, il che lì ci divertiamo, perché non è proprio il periodo migliore in questo molto competitivo per cui vince chi arriva prima e come è arrivato chi se ne frega, però in teoria è così, adesso io ho visto che in alcuni Atenei stanno adottando delle policy interne di Ateneo per stare attenti, appunto per consigliare anche ai docenti di verificare che gli elaborati non vengano fatti da sistemi automatizzati, sarà sempre più difficile farlo, però vedete, è su un piano di intelligenza artificiale, scusate, di onestà intellettuale di trasparenza su due modi, cioè i providers dei sistemi di intelligenza artificiale, providers will have to declare with which data or works they have trained their systems, but only in European Union, not in the United States, and see the draft of the regulation, the new regulation. users of, quindi noi, utilizzatori, users of AI systems must or should, perché qua non c'è una legge che ci obbliga, ma è una questione appunto etica, should declare where their creation has been generated with an AI system. We leave the field of pure law and entered more in one of ethics. Lasciamo il campo del diritto puro, siamo più in quello dell'etica, io forse qua allora passerei la palla a Rossetti, ad esempio, non so, a un altro docente che si occupa di etica, di filosofia. è... è...